Un progetto di internalizzazione presentato quattro anni fa e quanto rivendica il coordinatore provinciale Cobas Taranto in occasione del presidio di lavoratori nel piazzale Bestat nella città Bimare. La questione degli appalti si è diventata una cosa devastante e veramente oramai scandalosa. E quattro anni che noi abbiamo proposto, anche alla vecchia amministrazione, ma sostanzialmente sono quasi tutti gli stessi anche oggi, un progetto di internalizzazione, perché dove è stata fatta l'internalizzazione? C'è stata trasparenza, il servizio è stato più efficiente, si è data dignità ai lavoratori che oggi hanno condizioni economiche e lavorative, da fame, sfido tutti a pulire la città come fanno, con molto garbo e con molta efficienza questi lavoratori. La proposta avanzata è di istituire un tavolo permanente. Adesso basta, se è gente che qui lavora da 20, 30 anni a questa condizione, ed è indegno di un paese civile. Quindi, cara giunta, cari consiglieri comunali, cari assessori, dobbiamo fare un tavolo permanente per l'internalizzazione di tutti gli appalti, che è una garanzia per la città, un'economia per la città, e quindi sistemiamo tutta la situazione. Sta a voi, se non lo farete, noi saremo come i doberman alle vostre caviglie.